Glamour, scintillanti, accattivanti, seducenti, le pubblicità di prodotto, quelle fighe, quelle che se anche il prodotto non lo conosci ti gira a guardare. C'è sempre un perché in un'immagine esteticamente accattivante. Tutti amiamo il bello, le cose belle piacciono e come diceva Oscar Wai, la bellezza è verità. Ma siamo poi sicuri che dietro ad una bella copertina ci sia anche un buon prodotto? Beh, poco importa, i professionisti dell'immagine sono quelli che sanno come tradurre un prodotto in un immaginario. Ma come vengono prodotte le immagini pubblicitari? Beh, dipende. In massimi termini un prodotto può essere fotografato o tramite la computer grafica modellato e visualizzato nei programmi tridimensionali. Io qui vi parlo di computer grafica, se seguite i video che pubblico su YouTube saprete che la maggior parte del lavoro che pratico è in merito alla visualizzazione tridimensionale, anche se non disegno la fotografia. Detto ciò, oggi vi mostro come ho realizzato questa immagine con 3ds max, corona e photoshop, seguendo una metodologia che viene usata in fotografia. Di fatto, con il 3D possiamo ricreare ogni aspetto del mondo reale e qualcosa in più, senza l'onere di dover possedere gli spazi e le attrezzature. Le tecniche però rimangono le stesse, e quindi andiamo a vederle. Vi parlo di un prodotto quindi abbastanza comune, la birra. Vista e stravista in tutte le salse, la birra che vi servo oggi è visualizzata in uno spazio virtuale, come detto, dove ho ricreato un set fotografico partendo da un principio di replicazione delle fasi di settaggio ripreso usate in fotografia. In 3ds max renderizzerò tutti i layer con la definizione di ogni singola luce, a seguire proprio come si fa in fotografia porterò questi layer in photoshop, li sovrapporrò, miscelandoli e finalizzerò l'immagine aggiungendo alcuni elementi che non sono parte del modello tridimensionale. Il modello 3D si compone del contenitore vetroso in una tonalità verde, la birra all'interno, il tappo di metallo e naturalmente l'etichetta. La bottiglia si deve su una superficie lucida per raccogliere il riflesso che dà sempre quel tocco chic e da un certo senso di profondità. Quello che vogliamo in fondo è che la bottiglia buchi lo schermo e ci venga incontro. Lo sfondo è uno piano scuro, non completamente nero, per riflettere il fascio di luce posto dietro la bottiglia e creare un alone chiaro che stacchi il profilo della bottiglia dal fondale. Potremmo fare questa cosa come altre cose in photoshop ma cercherò di produrre più elementi possibili in 3ds max e poi lasciare solo pochi ritocchi e piccole azioni in photoshop. Ora per prima cosa vado a posizionare delle fonti luminose tenendo a mente che ogni singola luce andrà a definire un'area precisa della mia geometria. Ovvero posizionerò le luci in modo strategico, in modo da disegnare con la luce o come dice qualcuno scolpire con la luce. Il termine vedete rende bene, infatti grazie alle luci riusciamo a definire le forme e dare tridimensionalità e sostanza al nostro prodotto, sottolineando in questo modo gli elementi che più ci interessano. Per rendere l'idea è come se creassimo le tessere di un puzzle da comporre successivamente in post in photoshop. Contrariamente però al puzzle i nostri elementi possono essere utilizzati in maniera più flessibile. Nella mia scena ho già creato e posizionato le luci che mi servono, andiamo a vederle. Gerarchicamente partiamo con le luci più importanti e quindi una soft light a destra, poi una a sinistra. Queste sono le due luci molto grandi. All'interno della luce ho inserito una texture creata in photoshop, come vedete, che riproduce le caratteristiche delle soft box light da studio fotografico. Ho fatto ciò in modo da non creare delle riflessioni troppo precise con bordi troppo netti. Vado poi ad inserire una luce frontale con le stesse caratteristiche, poi delle luci che illuminano il collo della bottiglia, una per il tappo e una molto importante per schiarire il contenuto della bottiglia posizionata posteriormente alla bottiglia. Poi un'altra luce, sempre posteriore alla bottiglia, che andrà a illuminare il fondale per creare l'allone chiaro che stacca il profilo della bottiglia dal fondale. Per ultimo posiziono una luce molto grande dietro al fondale e che sia più larga dello stesso, che produca queste riflessioni caratteristiche sui bordi della bottiglia, rinforzando la forma e rendendo la bottiglia ancora più tridimensionale. A questo punto ho tutte le luci che compongono l'illuminazione del mio soggetto, ora vado a definire una serie di pass o di layer per ogni singola luce. Per fare ciò apro la finestra di render setup di Max e nel pannello scene o scena vado a cliccare su setup light mix. Mi si aprirà una finestra dove trovo un'indicazione delle modalità di separazione dei layer. Scegliamo individual light in quanto a noi serve ogni singolo pass per luce. A questo punto nel pannello render elements dovrei avere la lista di tutte le luci più il light mix. Vado ad aggiungere un wire color pass da usare come mascheratura della bottiglia poi successivamente in Photoshop. Ora se lancio l'interactive rendering di Corona nel frame buffer posso andare a selezionare ogni singolo pass di luce e vedere come si comporta. Fatto ciò lancio il render finale alla risoluzione voluta e una volta finito salvo tutti i pass e li porto in Photoshop. Ora in Photoshop apro tutti i miei pass e inizio a sovrapporli. Crea un layer di base 100% nero. Ai layer attribuisco un blend o miscelazione con la modalità Linear Dodge ottenendo così una miscelazione ottimale. Ai layer poi aggiungo una maschera che mi permette di decidere con quale modalità intensità la mia luce influisca sull'immagine finale. In questo primo layer vedete come ho dipinto la maschera smorzando l'effetto della luce in modo da non congestionare l'immagine finale con l'eccessiva sovrapposizione di troppa luce. Ora vado ad aggiungere gli altri layer seguendo la stessa modalità. In alcuni casi come in questo caso ho duplicato il layer per rafforzare l'intensità della luce. Potrei usare una curva di correzione colore su layer stesso per accentuare le alte luci ma preferisco duplicare il layer in questo caso. Avanti così aggiungo le luci, quella centrale anche questa duplicata con una maschera che mi smorzi i punti troppo sovraesposti. Poi le luci di rinforzo e poi una luce fondamentale che è quella che mi disegna i bordi della bottiglia. Di nuovo la duplico per accentuare il risultato. Poi il momento di una luce che mi evidenzi il tappo e poi il layer che mi rende il contenuto della bottiglia. Questa è la luce che siede dietro la bottiglia e ne illumina l'interno fondamentale per dare sostanza al contenuto. La duplico e vedete come si colori l'immagine e anche il vetro della bottiglia prenda vita. Ultimo tocco con un'ulteriore luce pass per il tappo e il collo della bottiglia per mettere in evidenza certi particolari. Sopra questo dipingo un layer che mi servirà per togliere una colorazione non voluta dalla riflessione sul pavimento. Utilizzando un blend nel layer impostato su saturazione rimuovo appunto questo strano effetto di colorazione non voluto. In cima aggiungo un layer di correzione colore, in questo caso agisco sulla saturazione. E' giusto il verde della bottiglia che a questo punto risulta troppo saturo e acceso. Successivamente vado a creare un alone, quello che si diceva precedentemente per staccare la bottiglia dal fondale. E' contrariamente a quanto ho detto prima non ho usato uno dei pass di Max ma l'ho dipinto direttamente in Photoshop in modo da decidere la dimensione che più mi aggradava. Anche qui al layer visibile al 25% ho applicato un controllo saturazione per potermi alineare cromaticamente al resto dell'immagine. Tramite il wire pass di Max ho creato la maschera per separare la bottiglia dal fondo. Ora potrei aver finito ma vado ad aggiungere alcuni elementi che mi rendono l'immagine più accattivante e dinamica. Cosa meglio di un bel sprizzo di birra rinfrescante? In internet mi sono procurato delle immagini e a tal proposito se non lo conosceste c'è un bel sito dove potete scaricare delle foto gratuite per i vostri progetti. Si chiama pexels.com fateci un giro perché ne vale davvero la pena. Io ho ritagliato lo splash della foto e l'ho duplicato e posizionato in modo convincente. Altrimenti se volete qualcosa di più facile da usare potete scaricare dei pennelli per Photoshop a questo indirizzo che vedete in sovraimpressione. E questo è quello che otterrete. Ce ne sono tanti e davvero tutti belli. Di nuovo sopra al gruppo di layer con lo splash di birra ho aggiunto una correzione colore per allinearmi con il resto in termini di tonalità. Con lo stesso principio poi ho aggiunto altri layer con altri spruzzi. Alla fine ho collassato tutto in un unico layer ed ho aggiunto una piccola correzione con camera RAW. E questo è quanto. Potete fare vostro questo modello con le varie luci e settaggi ad un prezzo irrisorio sul mio sito web www.metrovisual.co.uk Spero che questa breve introduzione al product rendering vi sia piaciuta e sia da stimolo a qualcuno per approcciare cose nuove. Vi auguro un buon proseguimento e ci vediamo alla prossima. Stay tuned!